Adesso vediamo se sono più bello di Montemagno. Mi metto così come Monti. Ciao, sono Monti. Ciao YouTube, benvenuti in questo nuovo video. Ero lì al computer che stavo scaricando dai file di lavoro e nel frattempo mi sono accorto che il mio Instagram ha avuto una crescita esponenziale. Vi faccio vedere un po' non quello che è successo perché ovviamente non abbiamo uno screenshot precedente però fidatevi di quello che vi dico. Avevo circa 1200 follower e adesso sono. E questa cosa è successa nell'arco di 5 giorni perché ho scoperto una cosa fighissima che aiuta le persone a far aumentare sia il numero di follower che di like che di engagement, il cosiddetto engagement, sul proprio account Instagram. Partiamo subito con la premessa. Non è una cosa gratuita e io non ve la dirò gratis. Non è una cosa gratuita, ci sono vari piani di abbonamento mensile. Scegliete voi quello che fa più al caso vostro. Dipende da quanto volete investire sulla crescita del vostro account Instagram e pagate tramite PayPal. È una cosa molto semplice. Questo servizio non è offerto da me. Io non sono un guru della crescita dei canali social però ne ho bisogno e quindi l'ho provato in prima persona questo servizio. Questo servizio inoltre vi dà la possibilità di fare una prova di 5 giorni gratuita dove potete testarne le potenzialità. Gli abbonamenti partono da 9 euro al mese e finiscono. Si può arrivare fino a 34,95. È uno dei pochi servizi che funziona e inoltre vi do un altro spunto. La scelta di abbonarvi a questo servizio dipende da che valore date al vostro tempo. Io sinceramente non ho il tempo di andare a seguire altri account per farmi seguire, commentare, mettere like. È una cosa che funziona per carità. Su internet trovate varie guide al riguardo. Trovate qualche santone che vi consiglia come fare. Sono tutte strategie che funzionano. Però sinceramente il mio tempo, diciamo un'ora del mio tempo, vale di più di qualche follower Instagram. E allora per me le 9 euro sono più che ben spese. Vi faccio vedere lo screenshot della mia dashboard così vi rendete conto quanto è cresciuto il mio account Instagram. Come dicevo prima, io questa cosa non ve la cedo gratuitamente però vi dico che il costo mio di questo consiglio non è esoso. Vi basta mettere un mi piace a questo video. condividere questo video sul vostro Facebook in modo che qualcun altro interessato possa carpire questi consigli, questi suggerimenti che vi posso dare. Mi dovete mettere un follow sul mio Instagram personale poi decidete voi se continuare a seguirmi oppure no e mi mandate un messaggio diretto su Instagram. Io vi risponderò ad uno ad uno personalmente con il link sul come attivare questo servizio. Ragazzi io vi ringrazio, ritorno a dedicare il tempo a quello che è il mio lavoro e lascio che di Instagram se ne occupi il mio assistente virtuale personale, ok? Ok.